Carboni, e c'è la devozione, proprio lui, Giannini, Giannini, in 2 a 0 per la Roma, in delirio, colpo la curva asciuta, se colpo la maglia, Giannini, amato, confessato, ma sempre lui, del grande abbraccio ideale tra Giannini e la curva asciuta, Giannini, settimo importantissimo gol europeo. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.